La mediazione familiare che veniva data ai genitori in fase di separazione in presenza di minori era un servizio importante, prezioso e di prevenzione delle dinamiche poi che si vengono a creare di disagio a carico dei minori e i bambini non lo possono chiamare l'avvocato, siamo sempre lì. Mi permetto di dire che questa è una verità molto parziale perché noi abbiamo sospeso un unico servizio perché la situazione nella quale la regione toscana ci ha messo ci avrebbe fatto fare un servizio in maniera non adeguata. Allora una cosa è fare un'interpretazione della letteratura, una cosa è la realtà, organizzare un servizio per 6 comuni non è come organizzarlo per 23, se siamo 23 comuni pretendo le risorse per 23 comuni, se siamo 6 mi organizzo per 6 perché poi dopo la letteratura c'è la realtà, la realtà è che dalla sera alla mattina questa zona sociosanitaria a cui quel servizio faceva riferimento è passata da 6 comuni a 23 con le stesse risorse, allora io pretendo lealtà da parte delle istituzioni perché c'è il comune e poi c'è anche la regione, qui non si possono fare i disastri e mettere la croce in capo a qualcun altro, quindi o siamo 23 comuni e pretendo le risorse per 23 comuni o si ritorna a essere 6 e se ne riragiona. Sono d'accordo, no nel senso. Voglio dire, questa è una valutazione da due punti di vista, l'amministratore e la pedagogista in questo caso e la persona impegnata nel coordinamento a FIDAR nell'ordine per la parte della comunità quindi espressione della comunità, nella comunità ci sono anche le famiglie che vivono la difficoltà della separazione con i figli e siccome la indicazione della mediazione familiare viene dal tribunale evidentemente il servizio lo deve garantire perché oggi accade che le famiglie che hanno questa, le coppie che hanno questa indicazione gli venga detto trovate qualcuno che vi faccia la mediazione familiare a dire la verità, questo è un servizio che da un punto di vista legale starebbe in capo alla ASL i comuni lo hanno fatto giustamente in maniera sorrettizia e persurro che hanno fatto bene dopodiché non si può dare un servizio avendo la certezza che non si ha le forze per poterlo dare perché io non devo mettere una targhetta alla porta, devo darlo bene allora 23 comuni con le stesse risorse non possono dare lo stesso risultato ma questa regione quando risponde su questo? ah beh io questo non lo so, bisognerà che dopo che si è fatta tanta polemica sul perché abbiamo sospeso un servizio opzionale perché non eravamo più nelle condizioni di renderlo efficace forse si comincia a spostare la polemica da chi è stato il grande creatore, il grande architetto di questo casino cioè la regione toscana grazie